vediamo ora in audacity come applicare l'effetto di dissolvenza in entrata e in uscita voglio prima aggiungere comunque importare una traccia audio di sottofondo e scelgo questo magic mp3 apri mi ha aggiunto una traccia audio come potete vedere sotto il parlato abbasso qui il guadagno in maniera tale che il file mp3 non sovrasti sulla voce e poi vado a spostare la mia traccia audio quella del mio parlato agendo su questo strumento spostamento temporale vado quindi come vedete a spostare la mia traccia anche spostata la traccia musicale quindi mp3 è un po' troppo lunga rispetto temporalmente lunga rispetto al mio parlato quindi vado con lo strumento seleziona a toglierne una parte l'ultima parte quindi seleziono e faccio catch ora applico selezionando l'audio magic importato mp3 applico con l'effetto di solvenza in entrata posso vedere il risultato come vedete mentre sta andando la musica ho alzato un attimo il guadagno perché era un po' troppo bassa per me si va nella città dolente per me si va nell'esterno dolore per me si va tra la perdita gente giustizia mosse il mio alto fattore feccemi la divina protestata la somma sapienza e il primo amore dinanzi a me non puor cose create se non etterne e io etterno duro lasciate ogni speranza a voi che entrate ecco adesso vado ad applicare l'effetto tra gli effetti vedete di solvenza in uscita sempre con lo stesso procedimento cioè seleziono l'ultima parte della traccia sono sempre con lo strumento di selezione vado a selezionare l'ultima parte della traccia e in effetti di solvenza in uscita verifichiamo l'ultima parte seleziono da qui quindi vediamo cosa è accaduto per lo duro lasciate ogni speranza a voi che entrate vedete che comunque la traccia è ancora troppo lunga rispetto al parlato allora sarà mia cura toglierne un pezzo ancora selezionandola e con il cancel aspettate selezioniamo da qui ecco con il cancel tolgo seleziono poi con sempre con lo strumento selezione questa ultima parte vado in effetti cioè dovete proprio aggiustare il file complessivo e andate in solvenza in uscita così non avremo un tempo di attesa per la fine troppo lungo andiamo a sentire ecco vedete che la musica finisce in niente anche fin troppo lunga potete accorciarla secondo i vostri desideri vedete 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 vedete